In prefettura a portare tutta una documentazione che soprattutto i comunali e municipali hanno fatto negli ultimi anni e mezzo, una serie di atti, di denunce disposte in procura rispetto allo scandalo mafia capitale e le andiamo a portare al prefetto in quanto il prefetto ha istituito una commissione che deve fare chiarezza in questi giorni, nei prossimi mesi rispetto al coinvolgimento più o meno grande perché ci sia evidente anche della presente consigliatura rispetto allo scandalo di mafia capitale. Noi vogliamo che la mafia vada via dalla capitale, da questa città che è la nostra città e dato che sono passati solo 41 giorni dallo scoppio dello scandalo ma sembra che si tratti del secolo scorso, dobbiamo continuare a lavorare, a denunciare e a fare pressione affinché le istituzioni, ma a cominciare dai cittadini, ripuliscano questa città. Buongiorno.